Ma che silenzio nella giungla che c'è, di strano cosa starà mai succedendo, un grande vento di sicuro perché non ti aspettano, anche le te le stanno certo guardando, l'ortà maggiore brilla chiara nel cielo, sarà la vita di chi presto per noi sta arrivando qui. Nasse stanotte un gran re che non conosce paura, combatterà con le altà poi ruggirà la bianca luna. Simba, re Simba, nei buoni leoni proprio campioni, Simba, re Simba, la vita comincia, e chi ti fernerà? Quante avventure con gli amici vivrai, crescendo sta l'accento molto più dura, vedrai che infina... Le farfalle Anzi è una bellissima giornata, vero amici? Buongiorno Simba, hai perso qualcosa? Perchè non mi rispondi? Sei forse di cattivo umore? Simba, dimmi che cosa hai perso, potrei aiutarti a trovarlo? Va caccia dei tuoi insetti, oppure vai a cinguettare sugli altri, tanto non sai far altro tu. Ah ah, sei invidioso! Sei invidioso della mia splendida voce da soprano! Io volerò prima di te! No, io la vorrò più in fredda, sono paziente di volare! Questo caldo ci farà crescere più in fredda! Io comunque sarò più bella di te! Chi è? Non l'ho mai vista! La conosci? Non so chi sia quel brutto muso! Oh! Ma tu chi sei? A che razza di animali appartieni? Cosa? Beh... Ecco... Ehi, non parli, il gatto ti ha mangiato la lingua! Scusatemi, mi avete colto di sorprese! Non avevo mai visto animali come voi! È reciproco, mio caro! Stai tranquillo, siamo in offensina! Sì! Siamo delle limpidi lepidotteri! Siamo le creature più calme! Facifiche, calme, silenziosiose, discrete, placine, serene... Ah, sapete, anche io cerco la pace e la tranquillità! Scusatemi, non volevo disturbarvi! Non andartene! Noi ninfe stiamo preparando la nostra dote! Siete ninfe! Potreste spiegarmi che cos'è la dote e che cos'è una ninfa? Una ninfa prima di sposarsi deve preparare la dote! Capisco! E quegli aghi servono per preparare la dote! Certo che ne fai di domande per essere un tipo che non si è nemmeno presentato! Come ti chiami? Simba il leone! E sto cercando di conoscere tutti gli animali! Oh, Simba! Sì! Il suo nome è Simba! Oh, ma... Ma allora tu sei il figlio del famoso re leone! Sì, sono io! Voi avete conosciuto mio padre, per caso? Tuo padre era rispettato da tutti per il suo grande senso della giustizia! Tuo padre era molto generoso, sempre pronto a venire in aiuto di coloro che ne avevano bisogno! Sì, è vero! Non si tirava mai indietro ed era un vero temerale! Un giorno sarò come mio padre, fiero e generoso! Sì, ma hai tanta strada da fare! Sì, ma quando sarò grande sarò come lui! Ne sono sicura! Ah, non credi che dovrebbe essere più modesto! Attento, l'orgoglio potrebbe tradirci! Scusatemi, un giorno spero di poter diventare come mio padre! Bene, e ora ti presento le mie amiche! Oh sì! Bisogna che tu sappia chi siamo, se vuoi capire che cosa stiamo facendo in questo momento! Le sfingi che sono da quella parte sono delle crisaliti che diventeranno delle splendide farfalline notturne! Ah sì! Quelle crisaliti sono sempre delle ninfe che si preparano la dote di nozze! Esatto! In quanto noi siamo delle vanisse e diventeremo tutte delle bellissime diurne! Vai a trovare le sfingi, di che ti mandiamo noi! Ti daranno altre informazioni! Credi che si possa parlare con loro! Ma sì, sono gentili e disponibili! Ma non sono belle come noi! Sì! Sì, tornerò! Ma dopo aver parlato con le vostre amiche, come si chiamano? Le sfingi! Ah sì, sfingi! Chi si permette di disturbarci? Sono state le vanesse a mandarmi da voi! Chi sei? Non devi violare l'intimità delle ninfe! Non ti hanno insegnato la buona educazione! Scusatemi, ma ero curioso di scoprire perché vi nascondete in quei mantelli! È inutile! Quelle creature non ci capiranno mai! Vogliamo spiegargli che ben presto voleremo! Volerete? Ma non è possibile! Con quei mantelli! Oh, smettila di farci queste domande banali! Non abbiamo tempo di risponderti! Non lo vedi che siamo impegnate! Dobbiamo terminare i nostri preparativi! Ah, sì! Sono venuto per imparare a conoscervi e per diventare vostro amico! Io non so niente di voi! Non vogliamo sembrarti scortesi, ma siamo molto occupate! Un giorno diventerò re! Devo sapere tutto su di voi! Beh, in effetti non puoi sapere quello che stiamo facendo! Non sa cosa servono i nostri preparativi! Non ci conosce affatto! Ascoltate amiche! Se siete d'accordo possiamo spiegargli la nostra trasformazione! Vieni amicina! Sì! Voglio farti vedere una cosa! Lo vedi questo? Mi sembra un cappello! Hai ragione! È l'abito di fidanzamento che dobbiamo terminare per diventare bellissime! Non fare quella faccia! Succederà lentamente! E dolcemente! Vedi siamo avvolte nella sepa! Noi produciamo la migliore seta del mondo! E così avvolte subiremo la nostra metamorfosi! Avvolte nella seta subirete la metamorfosi! Resta a guardarci! E capirai il segreto della nostra bellezza! Non siete più belle! Sembrate delle uova! Può darsi! Ma quando uscirò di qui non mi riconoscerai più! Ma soffocherai lì dentro! Non ti preoccupare! Ne uscirò bellissima e viva! Sì anch'io! Ci rivedevo! Mi sembra una follia! Sono sicuro che soffocherete! Ora vado anch'io! L'ora della metamorfosi è arrivata per tutte le spingi e le ninfe! Arrivederci! La prossima volta ci vedrai volare vestite di abiti colorati! Arrivederci! E' uno dei grandi misteri della natura! Non cercare di capirlo ma osservalo! Arrivederci! Non vedo l'ora di volare con il mio abito di velluce! E' giunta l'ora amica mia! Adesso è il mio turno! Ciao! Sono tutte prigioniere del loro bozzolo di seta! Spero solo che non si sentano male! Non ci capisco più niente! Simba, dove eri venuto? Il canarino ci ha detto che stavi cercando una cosa! L'hai trovata! Simba, ma che cosa hai? Ci sei spaventato per caso! Non crederai mai a quello che ho visto! Ho visto delle ninfe che facevano una maglia di seta! Povero Simba, hai preso un colpo di sole! Che cosa ha detto delle ninfe che facevano una maglia di seta? Si è così! Andiamo a chiedergli spiegazioni! Andiamo! Sono curioso! Allora, come va Simba? E' una brutta cera! Forse ha visto la tigre e si è spaventato! Guardalo! Ha gli occhi speritati di chi se l'è vista brutta! O di chi ha visto un fantasma! Simba, ti ho sentito parlare di ninfe! Che cosa sono eh? Ecco, potrebbero essere fantasti! Le ninfe si sono chiuse nel bozzolo di seta per trasformarsi in creature splendide! Potranno volare con ali di velluto colorate! Questo fenomeno si chiama metamorfosi! Sta delirando! No, no, ha visto la tigre e si è spaventato! Hai ragione! Si! Si! Ma che cosa hai? Mi volete spiegare come vai in questo stato? Si! Sta delirando! Oh! Dobbiamo fare qualcosa! Andiamo ad avvertire le infermiere! Oh no! Devo fare qualcosa! Le devo aiutare! No! Oh no! Oh no! Soffocheranno là dentro! Pixel, coraggio! Arrivi! Vai a chiamare Olek! Va bene! Corro! Ci vado io! Pixel è troppo lento! Poverino, ha la testa piena di mostri! Mi preoccupa! Speriamo che Olek arrivi in fretta! Di solito è velocissima! Sta male! Non vedi come parlino? Ehi! Wimia sta tornando! Ah! Buongiorno, Olek! Guarda che l'ha ammalato di lui eh! Ah! Ah! No! Oh! Ah! Sì! Ma certo! Bene! Oh! Mh mh! Mh mh! Allora cos'ha? Niente di grave! Dammi la foglia ammoniacale! Ecco qua! È freschissima! Con questa si riprenderà presto! Ah! Ah! Ecco! Ma... Basterà? Sì! Fra un paio di minuti si sentirà meglio! Non c'è nessun motivo di preoccuparsi! Ah! Ah! Deve aver visto qualcosa che l'ha scioccato! Oh! Andate a chiamare il gufo, lui saprà cosa fare! Simba raccontagli tutto, mi raccomando! Dopo ti sentirai meglio! Adesso però dobbiamo andare! Sì! Ci sono altri ammalati che hanno bisogno di noi! Arrivederci! Arrivederci! Simba riguardati! Arrivederci! 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 Non parlatene più, per favore! Lasciate in pace Simba! Eh sì! È proprio così! Gufo! Eh? Abbiamo bisogno di te! Rispondi! Sei in casa! Simba non si sente bene! Ha bisogno del tuo aiuto! Vengono sempre a disturbare nei momenti meno opportuni! Ti prego, professore! Abbiamo bisogno del tuo aiuto! Oh! Questi piccoli sono davvero incorreggibili! Allora che cosa volete da me? Parlate! Avanti! Eh? Abbiamo urgentemente bisogno dei tuoi consigli per far guarire il nostro amico Simba! Devi sapere che Simba ha delle allucinazioni! E così non solo devo proteggervi di notte! Ma adesso mi costringete a uscire anche di giorno quando devo studiare! Scusaci, ma è una cosa seria! Sono curioso di sapere che cosa ci dirà! Sì, anch'io! No! Effettivamente devi aver visto delle cose straordinarie, ma il tuo cervello non riesce ad assimilarle! Raccontasi, ma che cosa hai visto? Delle ninfe che facevano abiti di seta per il loro fidanzamento! Ah, sì? Mi hanno spiegato che si facevano belle per poter volare! Ti hanno raccontato qualche altra cosa, Simba? Eh, no! Si sono chiuse nel pozzolo per prepararsi alla metamorrosi! Vuoi dire metamorfosi, Simba? Vi spiegherò tutto, eh? Simba si riferiva alla metamorfosi delle crisalidi, cioè la trasformazione delle larve in farfalle! Nella foresta ci sono le vanesse e le spinti! Ah, allora non era un sogno! Tutto quello che ho visto è proprio vero! Sì, le crisalidi tessano fili di seta costruendo un pozzolo nel quale si trasformano diventando delle farfalle pellutate e colorate! Sono quelle farfalle che volano nella foresta! La seta! Questa parola non mi è nuova, l'ho già sentita! Gli uomini tessano la fibra di questi pozzoli producendo dei tessuti in seta per poi fabbricare abiti freschi! È costosa la seta? Sì, è molto preziosa! Potrebbe essere questo il tesoro che cerchiamo da tanto tempo! Sì, tutto! Questa trasformazione è uno degli spettacoli più belli della natura! Ora devo tornare ai miei studi! Cercate delle larve! Arrivederci! Hanno detto che diventeranno mie amiche quando voleranno! Ero preoccupato per te! Non dovrei più andare, sono nella foresta! Non te lo prometto! Fammi vedere le tue valesse! Sì, certo! Ti ci parto subito! Ma qualche volta è bello andare da soli nella foresta! No! Non ricominciare! Se ne sono andati! Devi imparare a tenere appena la lingua, hai capito? Se ne ho distrutto! Con quella seta diventeremo ricchi! Ascolta, io ho un piano! Proveremo una seta delle larve! E poi troveremo sicuramente un modo per venderle in America! Che ne dici? Ma in che modo? Troveremo una nave! E poi? E poi! È semplice! Prima di caricare la mercanzia... Aia! Quella sensazione! L'hai fatto apposta perché non sapevi che cosa rispondermi, eh? No, no! Sì, invece! Ti prendi il gioco di me! Ehi, cercatore di tesori! Ah, sei tu, Willer? Sì, sono seccato! Ho perso la mia pallina! Vi potete aiutare a cercarla? Oh, mi dispiace, ma abbiamo da fare! Oh, sì! Siamo molto occupati! Molto! Eh, beh, fa niente, ma se dovesse trovarla mi avvertirete, d'accordo? Eh, mentre svolgeremo il nostro lavoro, ci guarderete in giro! Vi ringrazio! Eh, buona fortuna! Perché ci ha chiamati così? Così come? Ci ha chiamati i cercatori di tesori! Perché? Vieni, si pievo Simba! Vieni, ci siamo qua! È arrivato! Sono impaziente di forte le conosce! Stanco! Tu li vedi? Oh! Se non è giù! Andiamo! Siamo asciugati! Ah, un cercatore di tesori! Non si ferma mai da! Siamo ancora lontani! No! Andiamo! Hoppla! Il tesoro è vicino, non è il momento di fermarci! Via! Oh, aiuto! Tin! Fammi indietro! Mi hanno catturato! Zitto! Mi senti dallo stupido! Oh! Hai sentito? Si! Erano gli uccellini! Ehi! Avanti! Ma facciamo piano eh! Si! Eccoli! Siamo arrivati! Sono le spingi! No! Queste sono le vanesse! Ma non dobbiamo disturbarle! Aiaiaio! Cos'hai? Ti sei fatto male? Mi è entrata una spina nella zampa! Guarda! Aia! Aspetta! Cerco di togliertela! Oh! Grazie! Prima le ho viste che usavano un ago come questo per fare i loro bozzoli di seta! Le ho viste lavorare a maglia! Scherzando mi hanno detto che preparavano la loro dote di nozze! Ho l'impressione che questa avventura sia troppo pericolosa! Ci sono dei rischi da correre ma sicuramente porteranno buoni frutti! Ah si! Buoni frutti! Buoni frutti! Le sento muoversi! Si staranno trasformando! Allora sarà meglio allontanarci un po'! Le hai sentite? Nasconditi! Aiaio! Oh! Ma è una cosa fantastica! Chiudi la bocca! Shhh! Vuoi che ci scoprino? Qui c'è il nostro avvenire in ballo! Avvenire in ballo! Oh! Eccoli! Cominciano a uscire! Questa è una farfalla Vanessa! Oh! È davvero buono! Il nostro tesoro è lì a portata di mano! Oh! Sono bellissimi! Come sono belle! Meravigliose! Oh! Come sono belle! Meravigliose! Oh! 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 Aciugano! Vieni con me, andiamo a vedere le spingi Sì Ma dove vanno quei due? Dobbiamo seguirli, vieni Sì Sono già uscita Allora, è questa la metamorfosi delle nubi, delle crisalidi Viva, diventeremo rinchissimi Formaggio che sia volante Finalmente vengono, 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 vengono Vedi che un giorno anche noi ci trasformeremo in farfalle, eh? Sì o no? Credo di no Che peccato Che bello Fa più bello di una fiaba di fate questo bolletto di farfalle Ti hanno mai raccontato le fiabe Che bello, ma adesso che cosa facciamo? E ricordiamoci bene dove sono i bozzoli di seta Verremo a nasconderli e organizzare il volo trasporto Giusto Non parliamone con nessuno e torniamo a casa Ma stanno arrivando! Sono tanti! Aspetta! Buongiorno, non vi ricordate più di me? Ma certo, tu non sei cambiato Forse sei tu che non mi riconosci più nel mio nuovo abito Sì, hai ragione A dir la verità, siete tutte così belle adesso Io ero una delle crisali di Sfinge Ti avevo promesso la mia amicizia e mantengo la parola Ti avevo detto che sarei diventata bellissima ricorda Buongiorno, io sono una delle vanesse Ti ricordi di me? È difficile riconoscervi Come sono cari di me Ciao! 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 Oggi i nostri due giovani amici hanno imparato molte cose sulle farfalle Domani impareranno a conoscere altri animali che vivono nella foresta Insieme a loro scopriremo che la natura è piena di sorprese e di mistero Grazie a tutti